segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te e la sigaretta del residente romano esaurito il residente romano patisce diciamo nel quotidiano l'invivibilità però io ce l'ho una soluzione per questa città dovrebbero tornare gli etruschi gli etruschi quelli cattivi con un lucchetto un grande lucchetto e la chiuso l'uomo innamorato vive in uno stato di perenne attesa della telefonata che lei si manifesti il romano che dovesse diciamo sperare di conquistare un passaggio da un mezzo pubblico vive in uno stato di altrettanto perenne attesa ecco un'altra meravigliosa buca ecco così questa mi piace molto madonna adesso ci abbiamo il campo ma dove vanno gli amici domani piazza adriana è previsto che sia fatto un sottopasso è una via crucis la grande belletta il capolavoro premio oscar di paolo sorrentino inizia qui al fontanone del genicolo un turista che si suppone asiatico forse giapponese scende dal pullman e va ad ammirare la skyline di roma per cogliere la città in tutta la sua forza sublime e muore colpito dalla grande belletta adesso io proverò proverò a morire nel caso non dovessi morire sarà la prova provata che questa città non ha più un suo costrutto a questo punto il giapponese è già morto sta qui riverso per terra ritento niente da fare non si muore più è finito tutto etruschi sbrigate a raggiungerci a salvare questa città dopo averla chiusa allora ben